Un 23enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri di Sant'Agata Meditello con l'accusa di stalking. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione sentimentale e aveva così iniziato a vessare l'ex fidanzata e la sua famiglia quando la giovane era ancora minorenne. Dovrà rispondere di atti persecutori, violenza privata, furto, lesioni, danneggiamenti aggravati e incendio. La storia era iniziata lo scorso anno, quando dopo circa un anno di relazione sentimentale tra i due, la ragazza ha deciso di lasciare il 23enne, che ha però iniziato a mettere in atto una serie di vessazioni nei suoi confronti. Inviava messaggi con minacce di ogni genere e poi pedinamenti e scenate di gelosia anche di fronte a terze persone. In un'occasione il ragazzo ha fatto salire la vittima sulla propria autovettura, colpendola ripetutamente al volto per essere uscita di casa senza il suo permesso. In un'altra occasione ha appiccato il fuoco ai vestiti della ragazza. L'arrestato è arrivato anche ad aggredire un imprenditore che avrebbe voluto assumere la giovane. Il culmine della storia si è raggiunto quando il 23enne è entrato nell'abitazione della giovane dopo aver forzato la finestra del bagno. Una volta dentro casa ha rubato un televisore, una macchina fotografica e danneggiato il divano e i mobili, imbrattando i muri della cucina con vernice rossa. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha persino minacciato di morte i genitori della vittima se si fossero rivolti ai carabinieri. L'inchiesta era stata avviata lo scorso maggio e si è conclusa ieri con l'arresto del 23enne condotto al carcere di Gazzi.